ruolo che sono arrivati con l'informatica e via dicendo. Era difficile sinceramente che ci fossero squadre come nei ragazzi della via Pal a secondo dei quartieri e quindi tu inevitabilmente abitavi in quel gruppo di strade e quindi facevi parte della squadra di quel quartiere e gli altri no. Noi eravamo sempre bambini che vivevano vicino, che vivevano o nello stesso edificio o in quattro cinque strade vicine, quindi ci dividevamo per giocare. Poi la banda si riformava il tutto e l'indomani la banda era diversa. Naturalmente questi giochi di bande, le sfide potevano essere delle piccole cose, ma potevano diventare anche delle cose difficili, perché noi abbiamo fatto anche dei giochi pericolosi sfidando la banda nemica. Io una volta con due mie amiche per sfidare la banda nemica siamo entrate dentro una fogna che non potevamo affogare, però ci potevamo beccare qualche infezione, qualche malattia eccetera. Mi ricordo sempre una di queste mie amiche che la mamma la vestiva un po' come una bambola, aveva una bellissima sottoveste di Battista colpizzo Valancienne, tornata a casa con questa sottoveste tutta inzaccherata e la madre diceva ma come le esitte? Perché poi naturalmente questi erano segreti, non bisognava dirli, se no non ci facevano ci punivano, per qualche giorno non si usciva. E poi è arrivato, sono arrivati due momenti in cui eravamo più grandi, quindi ci potevamo allontanare e avevamo quindi a disposizione degli spazi più grandi in cui abbiamo cominciato a fare giochi da grandi, giochi da grandi in qualche modo anche un po' pericolosi. Uno di questi di cui io parlo, mi pare Indiana Cupido il Comendatore, era il gioco che si facevano tutti i bambini della città che leggevano a scuola l'Iliade e si dividevano in greci e in troiani. Noi avevamo la scuola vicino a un giardino pubblico e lì non si sorteggiava, lì sui banchi ciascuno decideva io sono Tizio, io sono Caio e non si cambiava per tutto l'anno. Io sono sempre stata a Gamennone, non perché io sia prepotente come era Gamennone, ma perché io ero il capo, io ero il capo della banda dei greci e lì c'era poco da... e la mia amica del cuore era Achille e che era una papamolla che piangeva per tutto quindi non aveva niente da fare, però aveva i lunghi capelli biondi come venivano descritti da Omero quindi lei era Achille. E noi quando uscivamo da scuola o anche nell'intervallo andavamo ai giardini pubblici e ci picchiavamo di santa ragione. Queste eravamo tutte femmine perché la classe era una classe femminile ci schieravamo, io come a Gamennone avevo due agiacci, io avevo le trecce, non so per quale motivo io andavo in battaglia urlando con i miei due agiacci che mi tenevano, uno la treccia a destra e uno la treccia a sinistra. Ettore, il guerriero dei troiani, era una mia amica cara, cicciona, grassissima che bastava che ti venisse addosso e ti spiaccicava per terra, cioè non aveva bisogno di darti un colpo bastava che ti venisse addosso con le mani penzoloni e tu eri spiaccicato come in un cartone animato ci facevamo male, tornavamo a casa. Allora intanto quella fontanella ha visto nasi sanguinanti tutti i giorni c'erano cinque o sei nasi che perdevano sangue, noi eravamo lì col colpo tieni la testa così che ti va via il sangue, non sporcare il grembiule, non sporcare la camicia sotto che se no poi tua madre, ginocchia scorticate e via dicendo e abbiamo giocato fino alla fine delle scuole medie avendo questa specie di sdoppiamento quando combattevamo ci odiavamo davvero, cioè questi nemici erano veramente dei nemici noi li volevamo picchiare forte poi quando eravamo in classe magari gli passavamo il compito gli suggerivamo, cioè tornavano a essere Luisella, Paola, Maria non erano più Aiace, Ettore, Paride, eccetera ma quando eravamo scattava il click per cui comincia la guerra di Troia noi il nemico lo dovevamo annientare, ciuffi di capelli strappati io tornavo, perché mia mamma era una donna piuttosto manesca quindi quando io tornavo a casa col colletto bianco inamidato col fiocco perché allora si faceva così tutto sporco di sangue e lei capiva benissimo che mi ero picchiata con qualcuno mi dava la giunta, lei la chiamava la giunta adesso quello, io non lo so che cosa tu hai fatto e chi te le ha date e chi le ha prese comunque tu da me ci avrai la giunta poi invece c'era un altro gioco che facevamo nella piazza principale della città che era un perfetto quadrato, un ettaro noi abbiamo imparato subito cos'era un ettaro perché ci dicevano Piazza d'Italia 100 metri per 100 metri ed era tutta per noi perché solo sul tardi la mattina verso l'ora dell'aperitivo c'era qualche signora che non lavorava che andava verso il bar e poi la sera sul tardi andavano a passeggio i grandi però fino alle 7 di sera era deserta ed era solo per noi e su questa piazza noi ne combinavamo di tutti i colori arrampicandoci addirittura in alto c'era il monumento Vittorio Emanuele dove c'era alla base un guerriero mezzo nudo abbracciato a un leone e poi sopra il povero re Vittorio Emanuele evidentemente l'avano messo in piedi sopra il leone per farlo sembrare più altro col suo cheppì la sfida era chi si mette a cavalcioni del cheppì e ci arrampicavamo molti però facevamo un gioco che si chiamava guerra francese questo gioco si facevano maschi e femmine ed è il gioco dove si tradivano le prime simpatie i primi amori perché questo gioco che aveva delle regole anche questo strettissimo comportava la cattura del nemico che veniva imprigionato e messo in un certo punto del marciapiede quelli della sua banda i francesi o gli italiani potevano riscattarlo ma per riscattarlo dovevano raggiungerlo prenderlo per mano e portarlo via senza essere acchiappati dagli altri allora siccome la piazza era divisa in due territorio francese e territorio italiano bisognava studiare una strategia cioè c'erano quelli che dovevano fingere di andare a riscattare ma servivano invece a adescare i nemici a portarli lontano facendosi inseguire c'erano quelli che erano specializzatissimi nel farsi inseguire vicino vicino per cui sembrava che ti stessero per acchiappare all'ultimo con uno scatto andavi via se no finivi tu prigioniero quando tutti i guerrieri più veloci dei nemici erano stati portati da una parte zoom allora correva velocissimo il liberatore prendeva per mano il prigioniero e se lo portava via e naturalmente anche lì le ragazze più carine quelle più corteggiate eccetera le prigioniere rimanevano pochissimo perché tutti quelli della loro banda si riunivano per liberarle quelle poveretti o quelli poveretti c'erano certi con gli occhiali grossi grossi che li pigliavano in giro che correvano poco che avevano l'asma e come nemesec che non respiravano bene e quelli tanto li facevano prigionieri subito perché non sapevano correre e poi quando erano fatti prigionieri fino alla fine della guerra rimanevano prigionieri poi alla fine c'era lo scambio dei prigionieri e c'era chi aveva vinto chi aveva perduto e anche lì io credo che in qualche modo ci allenavamo a una vita di relazione che non era ipocrita perché poi dopo da grandi questo tipo delle simpatie veniva veniva messo sotto veniva un po' nascosto insomma non avevamo coraggio di dire io a te nel gruppo non ti voglio io con te io ti squadra anche nel lavoro tante volte ci dovevamo dovevamo subire dei collaboratori di cui non avevamo stima però invece durante i giochi questi giochi erano veramente allo scoperto erano in qualche modo ripensandoci dopo e guardando gli itinerari di vita che hanno fatto i personaggi erano come degli psicodrammi che noi mettevamo in scena tutti i pomeriggi perché poi noi giocavamo tutti i pomeriggi noi tornavamo a casa tardi perché in Sardegna come nel meridione si cena tardi noi c'eravamo alle 10 di sera quindi fino alle 8 e mezza alle 9 noi eravamo qualche mamma si affacciava alla finestra guardava che non ci stesse non ci fosse nessuno steso al suolo con un osso rotto e questo era il massimo del controllo e la cosa anche buffa era che nessun ragazzino che non fosse della nostra classe sociale che non facesse le scuole medie non veniva mai a giocare con noi cioè c'era come una legge non scritta i ragazzi più poveri che facevano le scuole di avviamento si chiamavano allora giocavano in altre strade da altre parti fra di loro nessuno di loro in assoluto mai mai e mai si è unito a giocare con noi anche lì è curioso questo perché a noi sembrava la cosa più normale del mondo non lo è un gruppo di bambini dovrebbero giocare insieme però noi evidentemente questa divisione l'avevamo interiorizzata poi c'erano i momenti in cui arrivava un cugino di un'altra città uno di noi introduceva un parente che veniva da fuori una parente particolarmente affascinante con le trecce bionde un ragazzo che somigliava a Rodolfo Valentino e allora tutte le femmine si innamoravano però questi stavano lì per poco non conoscevano le regole del gioco sbagliavano tutto e noi li perdonavamo cioè c'era veramente una dinamica che oggi a scrivere solo su quei giochi lì vengono fuori verrebbero fuori dei romanzi ecco questo qui c'è una parola che torna in questo festival le narrazioni ecco solo a narrare dei fatti che sono veri di cui non c'è nessuna invenzione di fantasia e via dicendo ci sono vengono fuori i personaggi le personalità le relazioni gli amori e i disamori i tradimenti perché qualche volta succedeva anche che qualcuno che tu supponevi fosse un tuo grande amico ti lasciava prigioniero oppure la sorella non veniva a abbracciarti e ti lasciava catturare e c'era veramente il mondo degli adulti miniatura recitato in anticipo da prima da prima sotto forma di gioco un gioco che però era una cosa molto 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 seria io tirerei un po' di fiato perché ho parlato tanto Margherita mi fai bere e dici due cose tu intanto beh naturalmente chi ha letto i libri di Bianca Pizzorno molte molte di queste esperienze le trova tra le pagine dei libri le trova naturalmente raccontate con un altro modo le trova più esplicitate più dettagliate però la sintesi è questa quindi cosa vuol dire vuol dire che da quanto abbiamo potuto ascoltare oggi Bianca ha scritto molto della sua vita dentro ai suoi libri e quindi tutta quella esperienza che lei ha maturato da bambina da ragazzina tutte quelle quella pedagogia del gioco che della quale pedagogia non aveva non avevi come dire non aveva recepito recepiva semplicemente una gran voglia di giocare una gran voglia di divertirsi in realtà quello che ci è chiaro a tutti è che non c'è gioco che non ci insegni qualche cosa e non c'è gioco che non sia vera pedagogia quindi l'importanza di giocare rimane dentro rimane per tutti fondamentale ma ci accompagna quella che abbiamo fatto in età infantile ci accompagna poi per tutta la vita perché anche oggi mentre pranzavamo ci raccontavamo esperienze di gioco scoprendo che nel profondo veneto dal quale io vengo cioè io sono vengo dalla provincia di Vicenza quindi voglio dire un po' lontano da Sassari dove è cresciuta Bianca certi giochi si chiamavano con un nome diverso ma lì facevamo anche noi tra l'altro io rimanevo sempre prigioniera col che mi fai pensare che dovevo essere proprio brutta ecco quindi adesso finalmente ho capito io pensavo che mi lasciassero prigioniera perché non mi volevano liberare perché rimanessi in gioco in realtà no adesso tu mi hai aperto un mondo e quindi questo mi mette in crisi meno male che non ho ho superato questi problemi però perché poi vorrei lasciare anche lo spazio per delle domande nella seconda ecco appunto volevo dire ecco una cosa ecco invece da noi si diceva guardie ladri magari no ma è giusto che ogni territorio ha un po' i propri nomi quindi l'altra cosa di cui ripeto l'altro filone erano proprio i giochi di parole giochi di parole che io devo dire Bianca non so fare io ogni volta mi metto lì cerco di fare un acrostico non mi viene mai fuori non riesco a scrivere non riesco a farlo forse perché sono di natura impaziente forse perché non mi applico abbastanza a lei vengono delle cose meravigliose a me mai nonostante mi sia studiata al manuale ci abbia sperimentato su a questo proposito un piccolo inciso Bianca ha scritto questo manuale che si chiama il manuale del giovane scrittore creativo in realtà il giovane scrittore creativo altro non era che Snoopy non so chi molti di noi hanno letto le vignette le cose di Snoopy allora la cosa più divertente e imbarazzante di questo manuale è stato quando io l'ho portato personalmente al signor Schulz il signor Schulz è una persona adesso purtroppo è mancato ma viveva in un piccolo villaggio californiano in mezzo a delle viti un posto bellissimo naturalmente molto bello e quando ha visto questo manuale lui ha preteso che io pagina dopo pagina gli spiegassi questi giochi ora questi giochi erano in italiano quindi già io non ero tanto brava con i giochi di parole in più doverli tradurli dover cercare di spiegarli in inglese insomma sono rimasta ospite di Schulz per una settimana è vero e poi quando ci siamo salutati tra l'altro alternavamo queste lezioni di gioco di Snoopy che aveva appunto scritto Bianca e ogni volta dicevo se ci fosse qui Bianca che gli spiega lei perché non era facile alternavamo queste cose con un giro sui pattini perché voi sapete che i personaggi di Snoopy sono sempre sui pattini e quindi già anche lì io avevo qualche difficoltà e questo mi dice ancora una volta perché mi lasciavano prigioniera perché dovevo essere proprio una frana comunque detto questo ogni volta che ci siamo scritti delle lettere con Schulz mi faceva sempre dei quiz in inglese cioè dei giochi e io sono ancora lì che mi chiedo come faccio a risolverli quindi Bianca com'è che si fanno i giochi di parole e soprattutto come si risolvono beh allora non mi sentite sì non tutti i giochi di parole sono come dire si devono risolvere ci sono dei giochi di parole che sono assoluta libertà e assoluto possono essere in assoluto non senso assoluto delirio e ci sono invece dei giochi di parole che sono come delle equazioni matematiche per cui alla fine l'operazione deve riuscire non non può non riuscire però anche qua quando uno pensa che io abbia questo dono di sapere come come ce l'hanno molti poeti come ce l'ha molto il mio amico Roberto Piumini torniamo a bomba perché con Roberto e con suo figlio Michele che è diventato crescendo un bravissimo traduttore e non c'è gioco di parole più difficile che tradurre un libro ma soprattutto una poesia da una lingua a un'altra giochiamo fino all'estenuazione ci mandiamo poi adesso abbiamo Skype e tante volte sapete che su Skype oltre che parlarsi noi in genere non ci guardiamo però ci scriviamo dei messaggini scrivendo in fretta si sbaglia si sbaglia e quindi vengono fuori le parole buffe allora andiamo avanti seguendo il senso della parola sbagliata non della parola giusta però volevo dire che anche queste io sui giochi di parole beh intanto io ho fatto un programma televisivo che solo i più anziani se lo ricorderanno perché se non sbaglio erano 73-74 che si chiamava Il Diro d'Orlando e che era un programma che andava in onda al sabato pomeriggio al posto di chissà chi lo sa dove noi immaginavamo un mondo medioevale noi immaginavamo di avere trovato gli autori eravamo io Cino Tortorella Mago Zulli e Guglielmo Zucconi il giornalista padre del oggi più famoso Vittorio Zucconi che allora era un ragazzino Vittorio e noi avevamo immaginato di avere trovato un antico codice medioevale in una abbazia dove c'erano i giochi per i novizi la cosa particolare era che noi avevamo inventato che questo codice fosse scritto in una lingua diversa dalla nostra non fosse scritto in italiano fosse scritto in Diro d'Orlandico che noi traducevamo e quindi noi abbiamo inventato una lingua nuova avevamo dei nomi per esempio i ragazzi che partecipavano ai giochi si chiamavano i barabitti i premi si chiamavano aspetta grabesti però potevano essere i monette e in quel caso erano goldrani oppure potevano essere che ne so degli animali immaginari il famoso scucurillo del gen argento che è stato poi ripreso da Elio e le storie tese non mi ricordo più quale canzone l'avevo inventato io lo scucurillo del gen argento poi c'era non so una pianta erbivora c'erano dei pipistrelli giganti che non volevano entrare in studio che noi tiravamo con delle corde robustissime fuori si sentiva questo sbattere di ali che era semplicemente della carta sbattacchiata sul corpo e dicevamo avete vinto vi dovete portare a casa un mammut una squadra di bambini aveva vinto un mammut che stava fuori e questi sono cavoli vostri vi li dovete portare a casa e poi non so avevamo le gare si chiamavano l'overtanghe Pardemazio tutto quello che era musicale si chiamava discantico il caposquadra si chiamava Baldostengo in quegli anni erano gli anni del sequestro Moro ed era ministro degli interni Francesco Cossiga che è di Sassari come me un giorno io in ospedale al capezzale di un comune amico malato trovo Francesco Cossiga il quale mi dice voi ma ascolti me lo spiega com'è che avete trovato questo manuale questo manuale dei giochi e com'è che non l'hanno portato al museo e ve l'hanno lasciato a voi perché non credeva che fosse vero e io dice ma no ma guardi professore lui insegnava a Sassari ma guardi professore che ci siamo inventati ai che io credevo che fosse vero dopo un po' lo fanno Presidente della Repubblica allora la redazione gli manda un telegramma dicendogli grande l'overtanga di felicità e di gioia per la sua elezione a Baldostengo e l'abbiamo mandato al Quirinale e ci è arrivato pure un biglietto di ringraziamento scritto secondo me da qualche segretario con gli occhi fuori dalla testa che diceva Baldostengo e alla fine siccome i grandi sono stupidi un gruppo di funzionari a Roma ha detto tutti i bambini italiani parlavano in diro d'orlandico uno passava per la strada e diceva mi devi dare due goltrini voglio una ciangottina di barabitti hanno detto qua i ragazzi imparano un linguaggio che i grandi non conoscono e quindi possono tramare alle spalle degli adulti chissà quali malefatte e ci hanno fatto smettere il programma abbiamo dovuto cambiare il programma comunque abbiamo scritto anche un libro intitolato il diro d'orlando dove ci sono tutti questi giochi poi dopo vabbè ho fatto i manuali sia il manuale del giovane scrittore creativo che il secondo si chiamava esercizi di scrittura creativa ispirandomi io volevo fare un po' il verso ai veri manuali perché io sono convinta che in realtà non c'è manuale che ti faccia diventare scrittore tu diventi scrittore leggendo e punto cioè non ed è per quello che io ho scelto come protagonista Snoopy perché Snoopy poverino se vi ricordate stava tutta la notte sulla cima della sua casetta con la macchina da scrivere e scriveva era una notte buia tempestosa dopodiché mandava il manoscritto all'editore l'editore lo appallotolava intorno a un sasso glielo tirava indietro lo pigliava in testa boing fallita la mia carriera di scrittore e poi anche in altri libri magari più nei libri scritti per i più piccoli che per i più grandi ho giocato molto con i giochi di parole non solo con i giochi di parole ma con il linguaggio per esempio nella casa sull'albero c'è a un certo punto ci sono dei bebè che vengono abbandonati dalle cicogne e vengono allevati un po' rudemente bruscamente dalle due abitanti dell'albero che gli danno una cagna come balia e questi bambini non imparano a parlare imparano a cinguettare perché sull'albero c'erano gli uccelli imparano a miagolare imparano a bagliare e tutto mentre la gatta che aveva assistito la gatta Prunilde che era un gatto che avevo davvero io che aveva assistito a tutte le lezioni a un certo punto si mette a parlare in modo assolutamente forbito come un abbattino del Settecento anche lì non sono proprio giochi di parole ma sono giochi con linguaggio anche questi come mai io ho questo piacere e questa abilità perché a casa mia si giocava con le parole tutti giocavano con le parole ma non con i bambini i grandi c'era l'abitudine vabbè erano tempi in cui non c'era la televisione in cui il tempo sembrava molto più lungo in cui c'erano delle lunghe serate oppure c'erano dei periodi che ne so lunghi viaggi in automobile che andavano piano piano lunghi viaggi in barca noi andavamo alla spiaggia in barca e si faceva quasi un'ora di navigazione in cui stavi seduto e cosa facevi? giocavi con le parole c'erano questi giochi che avevano delle regole strettissime e guai a chi non li rispettava che i grandi giocavano fra di loro perché Margherita mi diceva ma che fine avevano cosa volevano insegnare ai bambini non li volevano insegnare assolutamente niente perché è limitazione dei grandi ti volevano forse erano un allenamento avere la parola pronta io penso era un periodo in cui c'erano anche tanti imbroglioni che giravano con le valigie di cartone a venderti dei tagli d'abito di pura lana vergine che non era lana vergine e tutto e avevano una parlantina tremenda questi piazzisti e se tu non avevi la stessa parlantina loro ti finocchiavano ti rifilavano o quelli che facevano il gioco delle tre forse lo fanno ancora il gioco delle tre tavolette nelle fiere del paese allora forse a casa mia i miei zii i miei amici dei miei genitori e dei miei zii facevano questi giochi per sciogliersi la lingua per diventare e ce n'erano giochi di come si può dire intanto le risposte dovevano essere velocissime uno non poteva stare a pensare cioè botta risposta botta risposta e via andare qualcuno di questi era di pura abilità e di richiedeva una gran ricchezza di vocabolario per esempio un gioco che facevamo moltissimo era la sartina di Parigi allora una persona faceva la parte della sartina e una faceva la parte della cliente durante questo gioco la cliente non poteva dire né bianco né nero né sì né no allora la sarta cominciava diceva buongiorno signora è venuta qui per farsi un vestito sì ti veniva da dire fuori dal gioco penalizzata certo sono venuta a farmi vuole un vestito da sera naturalmente no voglio un vestito da passeglio no non lo dovevi dire veramente vorrei un vestito da sera ma anche che vorrei un che colore eccetera eccetera ed era tutto allora una doveva tendere trappole per far dire sì no bianco e nero l'altra doveva rispondere seduta sola che c'è